Il Consiglio regionale nella seduta del 6 giugno ha approvato all'unanimità due ordini del giorno presentati rispettivamente da Giampiero Leo, Popolo della Libertà, e Andrea Bucchicchio, Italia dei Valori. Il primo di condanna per gli ennesimi attacchi ai danni delle comunità cristiane in Kenya e Nigeria, il secondo per chiedere alla Regione Piemonte di costituirsi parte civile nel processo Minotauro a seguito della recente operazione contro l'andrangheta condotta in Piemonte.